Il primo quarto di finale di questa edizione 2013 dell'Inghe Callen. Di fronte ci sono Corrado Carrelli Elevatori e Angolo del Caffè Agricola Terrella. La formazione del Corrado Carrelli Elevatori parte con il favore del pronostico ma la prima chance è a favore della squadra in maglia rossa con questa conclusione da parte di Cicchella che scheggia la parte alta della traversa. La reazione da parte della squadra del Agricola Terrella con questa incursione. Il gol realizzato da Padorrario bellissimo proprio sul secondo palo ben servito da Cracium. Padorrario non ha perdonato Tonini trafiggendolo sul secondo palo dunque 1-0 e vantaggio da parte della formazione dell'angolo del Caffè Agricola Terrella ma subito il pareggio però da parte di Corrado Carrelli Elevatori con Viscido che di testa riesce a battere il portiere Franchini. Splendido il suo stacco soprattutto per tempismo e per precisione dunque pareggio per la squadra in maglia rossa ma si è davvero addormentata la retroguardia della formazione dell'angolo del Caffè Agricola Terrella che poi prova questa incursione. Attenzione sulla fascia a destra con Cracium che pesca dentro, scusate era Padorrario che ha pescato dentro Cracium ed ha segnato il gol del vantaggio 2-1. Dunque per l'angolo del Caffè Agricola Terrella che passa nuovamente in vantaggio dopo essere stata raggiunta in precedenza da Viscido con questa bella azione corale che era stata finalizzata proprio da Cracium. Poi c'è questo pallone perso in maniera sanguinosa e fallo da parte di Kalingeru nei confronti di Cifra. Calcio di rigore che ci sembra ineccepibile per questa spinta che è stata effettuata dal giocatore in maglia blu. Squadra dell'angolo del Caffè che protesta ma Viscido poi dal dischetto riesce seppur con qualche brivido a trasformare il rigore. Dunque due pari e risultato nuovamente che torna in parità con le due squadre che stanno dando vita a una partita davvero molto bella, molto equilibrata. Poi ancora una grande chance e il gol del 3-2 realizzato dalla formazione di Corrato Carelli Elevatori con Cifra che ha ricevuto sul secondo palo da Masini. E è riuscito a mettere e imbucare la sfera proprio sul secondo palo. Dunque nuovo vantaggio da parte della squadra del Corrato Carelli Elevatori. E poi c'è stata questa conclusione, questa stafilata di Cracium che è stata neutralizzata dall'ottimo Tonini. Spinge però la formazione dell'angolo del Caffè Agricola Terella. Ancora una conclusione che ha visto Tonini salire in cattedra e respingere. E' un momento sicuramente favorevole alla squadra di Maglia Blu. Ma poi arriva questa conclusione da parte di Cicchella su calcio di punizione che fa la barba, la traversa. Dunque è stato fallito il match point e poi una doppia chance che è capitata ad Alexander Bulboaca. Ma Tonini ancora una volta è stato un gatto. Davvero molto bravo nell'uscita e poi nel contenimento appunto del giocatore avversario. Poi c'è questa conclusione da parte di Corsetti che viene neutralizzata e intercettata dall'ottimo Franchini. La partita rimane sempre in equilibrio ma attenzione perché arriva le gole delle tre pari. Proprio quando mancano cinque minuti al termine. E' stato nuovamente dunque Alexander Bulboaca a infilare Tonini sull'assist di Cracium. E dunque tre a tre mancano soltanto due minuti al termine. Attenzione c'è questo pallone perso in maniera sanguinosa poi riconquistato da Masini che prova questo ase. Sbaglia però attenzione c'è la possibilità e il gol realizzato proprio da Padurrario. Scusate il gol del 4 a 3 sul primo palo. Tonini è battuto. Mancano 30 secondi dunque un gol pesantissimo e farà tutta la differenza del mondo. Perché questo gol proietterà Angolo del Caffè, Agricola Terella alle semifinali di questa edizione dell'Inghe Callen. esce dunque dal torneo Corrato Carelli-Levatori che aveva vinto lo scorso anno.